Ciao fresatore e benvenuto a questo nuovissimo video, o fresatrice scusami, dove vedremo insieme come fresare il PCB, fibra di vetro e carbonio. Cos'hanno in comune tutti questi materiali è che sono comunque molto molto abrasivi e formati da fibre e per quanto riguarda piccole frese non lavorano per asportazione ma lavorano per rottura del truccelo e quindi poi successivamente vedrai delle frese che assomigliano più a delle lime per le unghie che non è che la standard fresa ideale che ti viene in mente. Ora questo magari cambia se andiamo su un nesting, una macchina diciamo specialmente sul carbonio o altri tipi di materiali magari non fibrosi, tipo simili, tipo compositi, HPL eccetera, andiamo sul diamante. Ma fermiamoci qua per materiali fibrosi, per materiali quindi queste molto abrasivi vengono usate questo tipo di frese diverse che si chiamano Z3, Z4, Z5 ma diverse dal solito e la particolarità qual è? È quella che ho già detto, lavorano per rottura del truccelo. Ma allora prima di vedere il modello specifico per il materiale specifico come come il nostro solito un minuto me lo voglio prendere per farti la predica ok? No scherzo non è vero per comunque darti delle indicazioni precise prima di affrontare la fresatura ok? Perché sì tu puoi avere la fresa giusta per il giusto materiale e per la macchina corretta ma se diciamo non è tutto a posto ok? Se ogni tanto non fai il tagliando o anche il Lamborghini si ferma ok? Si blocca anche le gomme diciamo ecco le gomme da pista per il Lamborghini se non hai la diciamo la convergenza nel modo giusto ti va fuori strada. Ecco perché comunque io ti invito e ogni tanto ti metto questo trigger spero di aiutarti ok? Di renderti mentalmente pronto più lo vedrai più lo vedi e più e più magari no ti ti ritorna oh guarda quel barbone lì della Freiser che mi rompe sempre che ogni tanto mi dice di controllare la macchina e controlliamola va là e stringiamo cosa cosa bisogna vedere nella macchina ok bisogna vedere naturalmente che gli accoppiamenti e la ruggine non ci siano bisogna pulirla la macchina comunque se è leggera e bisogna fissarla bene a terra ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che è difficile metterla anche in un carrello con le ruote perché mentre lavora sbatte a destra a sinistra e non va bene no? Il laser stesso che ho io l'ho messo in un carrellino però già anche quello quando lavora pur essendo leggero pur non fresando si muove e questo qua vedi dei piccoli vedi dei micro lavorazioni fatte male cos'è nel laser magari appena appena ma nella fresa è cosa fa ti sticchia ti vibra ti sticchia o ti può rompere anche la fresa ok e se lavori in CNC se lavori in manuale comunque anche il peso e il grip ok dove va deve essere ben piantato a terra la fresa neanche dirlo deve essere integra affilata pulita ma soprattutto idonea quella corretta ma tu comunque se ti affidi agli specialisti numero uno in Europa per quanto riguarda le fresa codolo non avrai sicuramente problema anche perché la nostra missione è quella di rendere la fresatura alla portata di tutti oltre ad essere specializzati quindi gli unici specializzati ok infine ma non per ultimo e te lo dico te lo dico te lo dirò sempre la pinza elastica ora io me ne vado no schifo ecco qua caduto un mandrino la pinza elastica deve essere buona deve essere buona deve essere buona deve essere buona ok deve essere buona deve essere buona fatta in italia se perché una roba così professione o professionale comunque in italia in europa dai in generale una roba così una cosa così anche comunque il più scettico che che mi dato ascolto mi ha detto matteo hai ragione costa una sciapata costa 20 euro una roba buona ok da noi cioè da noi buona e ti cambia la fresata da così a così un po un po come la fiesta no no e soprattutto la pinza elastica perché è fatta apposta no perché l'elasticità è quella è la differenza è il tipo di materiale e come fate eccetera eccetera è questa che tiene tutto alla fresa è questa che manda le vibrazioni oltre a via la macchina eccetera eccetera alla fresa ok e se non è buona non è cambiata ogni tanto sostituita specialmente qua su dove fa il coso vedi se è rovinata bisogna cambiarla e se si rompe una fresa dentro che può capitare specialmente in metallo duro buono devi pulirla devi pulirla perché perché altrimenti le micro polveri si depositano all'interno e basta poco che mentre fresa si rom si si va un po si va un po capito intaccare fanno quelle piccole micro vibrazioni la fresa e partono delle cricche e dopo un po si rompono dulcis in fondo la fresa nella pinza elastica va presa in modo corretto fino al simbolo una cappa se lo trovi inciso se non lo trovi inciso va inserita ta 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 fresa d'ora più possibile ok più possibile almeno 22 25 mm eccolo questo qua ma se comunque sei un utilizzatore freiser trovi tutto questo già sia nel video corso incluso nel tuo account a non ti ho detto piccola novità entro una settimana o due tutti i nostri clienti avranno un video corso di 40 video incluso al primo acquisto più di così ok ma scusami se mi sono dilungato su questa parte ma per me è molto molto importante perché comunque non voglio farti non voglio che tu spenda 30 euro 40 euro 25 euro per una fresa e poi magari ti si rompe per motivi diversi ok qualsiasi fresa non solo fresa mi sta a cuore mi state a cuore ma finalmente ci siamo andiamo sul pratico quali frese di fresatura pcb fibra di vetro carbonio utilizzare ok lo deve lo dividiamo in due kit ok questo è un piccolo intro ma andiamo a vedere allora ho fresatrice cnc con la diciamo questo è il kit per le schede pcb ok di solito si usano la fresa liquidale a 08 o punta liquidale comunque se avete problemi di sollevamento oppure una punta per fare la foratura ok quindi se dovete forare usate una punta o una fresa mono elica ok piccola queste qua pro normali ok invece se dovete fare dei dei canali delle linee ok si usano sia un bulino ok o una una fresa rotativa e le guide ok la fresa rotativa che è questa che ti dicevo vedi che sembra una lima però deve essere almeno di 2 mm non me la prendo più piccola se tu hai bisogno di fare delle linee molto più fine usami un bulino un bulino z1 che però attenzione affonda almeno un millimetro ok cinque decimi non di meno perché essendo a punta a vertice diametro è zero se meno mangia e più non lavorerà per asportazione non riesce a asportare rompere il trucciolo ma struscina un po come prendi un ago un ago lo infilzi e struscini dopo un po si potrebbe rompere ok strusci struscini spero che sia italiano taglio ecco qua abbiamo una fresa in metallo duro per lavorazione e generazione di taglio o la boss beaver abbiamo visto che è pratica con la lima cosa fa questa qua lavora per asportazione del trucciolo quindi non rompe questa è la fra 316 normale ok positiva non rivestita e invece questa è la fresa positiva rivestita bene ora invece per la fibra di vetro e per il carbonio andiamo comunque in cnc manuale poi queste allora tutte queste frese le puoi usare anche in manuale ok ma è molto è molto difficile che lavori questi materiali in in modo manuali però ecco sappi che la stessa fresa se usata in manuale va bene uguale qual è la particolarità la particolarità è comunque che sono frese in metallo duro sono frese integrali quindi cosa sono buone buonissime molto buone troppo buone ok quindi se se prendono colpi o contraccolpi o urti si possono rompere e questo non lo vogliamo comunque andiamo andiamo sempre di fresatrice cnc comunque fibra di vetro e carbonio per occasionali usiamo il metallo duro normale non rivestito quindi fra 316 o comunque una fresa elettro depositata questa costa un po di più comunque che è elettro depositata in diamante oppure ricorrente industriale usiamo la rivestita la rivestita non è altro che la normale solo con il rivestimento che la fa durare fino a 4 5 volte di più rispetto alla non rivestita scalda di meno scarica meglio il trucciolo ok in questo caso lo rompe meglio e si e si raffredda quindi no quindi non fonde fond c'è la possibilità della fusione è molto più diciamo il punto di fusione è più alto quindi la probabilità è molto più bassa e questo è il modello boss beaver ok quindi molto semplice molto semplice al volo torniamo indietro molto semplice per il pcb sempre per tutti i tre tipi di materiali fibra di vetro fibra di carbonio pcb è sempre questa la fresa per tagliare ora qua perché nella scheda devi fare sia dei fori quindi queste qua sono per forare perché c'è un diametro molto piccolo queste non riusciamo a fare diametro così piccolo da 0 8 mm o da 0 5 per fare i canali identica stessa cosa non riusciamo a fare a fare delle frese molto molto fine quindi usiamo un bulino dritto e per tagliare per lo squadrare va benissimo la fresa normale questa qua per per rompetrucciolo lo stesso vale per fibra di vetro e carbonio come abbiamo visto bene vai spero che sia abbastanza chiaro ora parametri di frattura per pcb e fibra di vetro quali sono comunque allora sì anche qua dobbiamo rapportarli sempre la macchina ok quindi un'idea di velocità di rotazione delle frese te la diamo sia qua che se l'hai sempre nell'account anche i parametri ok i parametri di lavorazione nel tuo account ce li hai della fresa acquistata se c'è il tagliandino ma se non c'è se non c'è se c'è l'icuna se non c'è ce la chiedi e in base alla macchina al tipo di materiale altezza spessore tipo di taglio noi ti indichiamo i parametri di partenza ok e se i parametri di partenza non dovessero andare bene naturalmente ti rimborsiamo come sempre va bene ora qual è la particolarità che qual è la dote che deve avere la skill che deve avere un frustatore è quella di riconoscere il problema durante la frattura e questo basta riconoscerlo una volta e diciamo te lo porti dietro sempre ecco perché come per tante altre cose abbiamo fatto una bella tabellina non l'abbiamo inventata noi è una tabellina che si usa comunque dovrebbero dartela spesso il vostro fornitore di frese se non è freezer male 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 siamo qua pronti per voi e diciamo qual è il problema il problema è cattiva finitura uso del tagliente la fresa brucia o fonde brucia nel legno fonde su questi tipi materiali sulla plastica lega leggere depositi sul filo tagliente vuol dire che si appiccica il truccelo vibra ok vibra la vedi che vibra che saltella tutto e la fresa si rompe ora cosa bisogna fare bisogna o diminuire queste cose o aumentare questo ma non te la voglio spiegare uno a uno perché è abbastanza semplice come lettura la puoi sia leggere qua che trovi il link per scaricarla in descrizione primo link secondo link in descrizione te la vai lì te la scarichi te la stampi e te la tieni gratuitamente mi lasci in email o perché ogni tanto ti diciamo come stai tutto a posto questa offerta se vuoi unire noi siamo disponibili ma infine dolcesi in fondo tutte queste frese che hai visto dove puoi acquistarle dopo acquistare nel freezer tools store ovvero l'unico e commerce dedicato specializzato alla fresatura di fresa codolo per legno plastica o leghe leggere che hai a disposizione comunque tutor tutto specializzati che ti aiutano dalla scelta alla guida all'utilizzo i parametri poi c'è anche un video corso incluso gratuito di 40 video che arriverà se guardi il video appena esce tra un paio di settimane altrimenti già è uscito ok dove ti spiegano tutte le cose fondamentali della fresatura anche l'ammenastro della mia disco ma soprattutto qual è la nostra missione la nostra missione è rendere la fresatura alla portata di tutti quindi molto più facile possibile e molto più diretta e molto più diciamo accessibile ok quindi deve essere una cosa molto molto semplice che tu magari spegni un po di tempo iniziare per come tutte le cose nuove no ti devi un attimo abituare magari trovi il tuo tutor poi dopo una volta che trovi il tuo tutor ce l'hai per sempre ok parli con lui dici ciao mandi whatsapp dici guarda guarda la fresatura è venuta così allora prova a fare così aumenta questo oh guarda mi sono nata la fresa ho usato i tuoi consigli ma guarda non ti preoccupare te ne mando un'altra anzi te ne mando un'altra diversa proprio per provare ok noi siamo sempre disponibili naturalmente ci deve essere dialogo da entrambe le parti va bene e solo per te che guardi questo video puoi utilizzare un coupon codice sconto del 5 o 10 per cento dipende dalle dalle occasioni che io pcb 10 e vale solo per la categoria per questo tipo di fresa che hai visto ok link al mega store ti lascio qua sotto e dai comunque www.fresetools.com ormai siamo abbastanza cercati sul web io non mi resta che salutarti a me non mi resta che ringraziarti scusami se mi sono dilungato in alcune parti magari non inerenti alla alle frese ma è molto importante te lo ripeto ancora più la scelta della fresa corretta è diciamo il 50 per cento ora l'altro 40 per cento è quello di avere una macchina sempre pronta e diciamo la pinza elastica soprattutto inserire bene nella fresa usare i parametri che ti diamo e avere una pinza elastica buona ok e rapportare naturalmente la tua macchina se una macchina leggera non puoi fare passate da 12 mm su un multistrato oppure se una macchina industriale non mi puoi fare un nesting con una fresa da 6 mm ma almeno vai da 12 ma questi sono tutti video a parte che faremo poi in futuro e che trovi anche nel tuo account dopo l'acquisto io ti ringrazio ancora sei stato con me al prossimo video ciao fresatore o ciao fresatrice ciao 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 ciao